Ancora Salvatore Masiello, Tony ruba palla, Palacio in area di rigore con il destro, Palacio una finta, poi rientra sul sinistro! Palacio al 36esimo minuto, il Genoa avanti 1-0 grazie a Rodrigo Palacio. Tutti a protestare con l'arbitro, i giocatori del Bari ritenendo che Palacio abbia colpito con una mano. No, Tony, Tony, di dire, si toglie con una mano. Ecco, riguardiamo, sì, nettamente con le mani. Qui c'era la stoppata pallavolistica di Luca Tony.